Con la parasha di Bekudè si viene a concludere il libro di Shemot che ha visto l'unione definitiva tra il popolo di Israele e Akkadosh Baruch Hu con la costruzione del Mishkan. La costruzione del Mishkan che viene appunto terminata nella parasha di Bekudè in cui Mosè fa un risoconto di tutto il materiale utilizzato per la costruzione del popolo ebraico per far sì che non venga appunto messa in discussione la sua onestà e il suo appunto impegno. A un certo punto è detto che Mosè, il Pasuk dice, che Mosè vede, che Mosè vede tutta la melacha, vede il Mishkan finito, portato a termine dal popolo, esattamente come gli aveva ordinato Akkadosh Baruch Hu, e Mosè dà una berachà al popolo e gli dice di riuscire in tutto quello che fanno. Da qui i khakamini si chiedono che cos'è davvero una berachà. Una berachà è un concetto difficile, perché? Perché una berachà non è soltanto mettere la mano in testa una persona, una berachà è augurare davvero al prossimo ciò che lui vuole nella vita. Se io so che quella persona vuole i soldi, allora lo devo benedire con i soldi. Se so che quella persona vuole sposarsi, devo benedirlo veramente con chi ha Akkadosh Baruch Hu, gli mandi uno shiduch, gli mandi una donna, gli mandi un matrimonio. Quindi è molto difficile benedire una persona, bisogna conoscere molto bene la persona prima di dargli una berachà. E Mosè conosceva ogni persona, perché ha detto che quando Mosè morirà, andrà da ogni singolo ebreo, perché conosceva ogni persona, ogni singolo individuo. E anche qui lui poteva dare la berachà al popolo perché conosceva ogni persona, conosceva il desiderio di ciascuno. Allora dice Che cosa ha visto Mosè? Ha detto Ha visto gli angeli. Per ogni mitzvah che un ebreo fa vengono creati degli angeli in cielo. E quindi ha visto che al compimento delle mishkan sono stati creati degli angeli per ogni ebreo. Ed è detto, il pasuk dice Che gli ebrei sono santi, perché? Perché fra quegli ebrei che avevano costruito il mishkan c'era chi era povero e chi era ricco. E entrambi avevano fatto ZK per la costruzione del mishkan. Il povero si era sforzato e Akadosh Barucho aveva considerato la sua buona intenzione, che nonostante fosse povero, aveva comunque si era sforzato. E il ricco non voleva far ZK, però aveva detto Mi vergogno degli altri che mi parleranno dietro e alla fine aveva fatto ZK. E quindi sono tutti Kedoshim, sono tutti santi. E veramente Shabbat Shalom vorrà, capiamo tanto da questa parasha, impariamo a essere Kedoshim come gli ebrei nel desiderio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.